Casciorro, uno prima. Allora noi andiamo a Tavoromina, ci installiamo così, arriva il giorno della proiezione. Commessa la proiezione del film, che era aperto, per cui la gente si stava là a sfogare, veramente la gente ha cominciato un po' a fischiare, dopo a rumorare, poi a grittare e proprio il suono del film non si sentiva. Allora, io ero seduto accanto a Glauber e allora lui si è alzato di corsa, io mi sono alzato con lui di corsa, abbiamo salito sul palco, perché c'era un palco, c'era il schermo dietro, c'era il palco, siamo salito sul palco e davanti a la proiezione... E io con lui... E io il pubblico, tranquillo, è di un film fino alla fine. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.